Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattuber e oggi sono tornato in un nuovo video Oggi vi porto un contenuto abbastanza particolare Oggi vi porto i roller coaster che hanno quella caratteristica che li rendono i roller coaster da record in Italia Quindi senza altre parole vi lascio la classifica, buona visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti